Leonardo Silva Revisore Guardate queste tre immagini. Nella prima riconosciamo la regina delle influencer che ha indossato quest'abito a Sanremo, un abito firmato da un'importante maison di moda che lanciava un messaggio femminista di autodeterminazione del corpo delle donne. La seconda invece è tratta dalla campagna pubblicitaria di un grosso brand internazionale che per il lancio di una collezione in edizione limitata ha voluto utilizzare questi motivi ultracolorati come ode all'arte audace, alla creatività infinita e al divertimento. L'ultima invece è tratta da un frame del fashion show di un noto marchio italiano dove le modelle indossavano degli abiti ispirati all'eleganza senza tempo, al fascino discreto e al minimalismo genderless con toni, come potete vedere, pacati e rassicuranti. In tutte queste tre circostanze è successo qualcosa di molto particolare. In ciascuna di esse, infatti, fateci caso, è presente un riferimento alla storia dell'arte che però è stato utilizzato, a mio avviso, in maniera un po' impropria. L'abito dell'imprenditrice digitale cita apertamente le antropometrie dell'epoca blu, una serie di quadri realizzati dal grandissimo artista Yves Klan a partire dal 1958, coprendo di vernice blu i corpi di alcune modelle che venivano poi fatte adagiare su grandi tele bianche stese per terra oppure appesi alle pareti. le modelle non erano libere di muoversi nello spazio o di esprimersi liberamente, ma anzi erano da lui definite living brushes, cioè pennelli viventi, comandati da lui a distanza, cioè era lui che letteralmente ordinava loro quali azioni intraprendere. La silhouette blu che vedete non è neanche nel lavoro dell'artista un'indagine sul corpo femminile. Anzi, era la testimonianza di un passaggio, di un'esistenza che supera la morte. Questo perché da amante del Giappone qual era, l'idea gli venne osservando l'impronta che un corpo lascia sul materasso dopo un match di judo e probabilmente anche dopo aver visto l'ombra sulla pietra di un uomo carbonizzato dalla bomba atomica ad Hiroshima. Insomma, il femminismo c'entra poco. Qui, la borsa è stata realizzata in collaborazione con l'artista Yayoi Kusama. Nella sua pratica, la ripetizione estenuante dei Poix è una forma di autoterapia dai disturbi ossessivo-compulsivi che aveva maturato a seguito di traumi infantili molto gravi e per colpa dei quali lei tuttora, da 40 anni, vive all'interno di un ospedale psichiatrico. Sono quindi una forma di trasposizione visiva del dolore. Il brand, a partire da questi elementi decorativi, ha addirittura sviluppato dei filtri social con i quali invitava gli utenti a kusainificare il proprio mondo, cioè a guardarlo attraverso gli occhi di Kusama. Forse, però, il mondo di Kusama non era proprio così divertente come il brand vorrebbe farci credere. E, infine, arriviamo alla sfilata. Qua la situazione è un po' diversa rispetto a quelle che vi ho finora descritto perché l'arte non viene usata come una fonte di ispirazione, ma come una scenografia. Infatti, i modelli e le modelle passeggiavano tra i sette palazzi celesti di Anselm Kiefer, un'installazione monumentale esposta all'interno di uno spazio di arte contemporanea a Milano e composta da gigantesche torri di cemento armato che evocano un paesaggio apocalittico costituito dalle rovine dell'umanità, dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale, delle dittature e dell'Olocausto. L'arte dell'artista tedesco è molto violenta, profondamente antiminimale, distante dall'armonia di cui parlava il brand. Questi sono solo alcuni esempi che ho selezionato perché i nomi degli artisti iniziano tutti con la K. Scherzo, ovviamente. Me ne sono accorta dopo, ormai avevo finito la presentazione, quindi è puramente casuale, ma in realtà li ho selezionati perché tra i più recenti sono quelli che mi hanno colpita di più, ma in realtà ce ne sarebbero tantissimi altri. Praticamente è successo che i brand hanno preso dalle opere d'arte citate soltanto l'aspetto più superficiale. L'aspetto, per l'appunto. Cioè i codici formali, gli elementi estetici, interpretando male, o forse manipolando volutamente, i messaggi originali delle opere, che sono stati epurati di tutte le asperità e le controversie al fine di poterci attaccare sopra i propri messaggi commerciali. Questo è un approccio retinico che esprime una tendenza piuttosto diffusa da parte delle aziende del settore a fermarsi a una lettura puramente visiva dell'oggetto artistico. Però non è un atteggiamento nuovo e per coglierne le radici dobbiamo fare un passo indietro nel tempo. Con la rivoluzione industriale, infatti, la moda, e con lei anche le cosiddette arti applicate, come la grafica o il design, sentivano la necessità di far capire al consumatore la differenza tra le proprie creazioni e i prodotti realizzati in serie dalle macchine, al fine di giustificare il prezzo più elevato delle prime. La moda capisce che, per rendersi speciale, deve quindi allontanarsi e offuscare gli aspetti che ha in comune con l'industria, cioè la funzionalità e il profitto, e per contro deve invece valorizzare ciò che la distingueva, ovvero la creatività. Le belle arti, cioè le arti quelle vere, erano perfette per raggiungere questo scopo. Sto parlando della poesia, della pittura, della scultura, la musica, il teatro, perché nell'immaginario collettivo erano considerate prive di utilità e quindi pure, elevate, profonde, quasi sacre. Pensate quanto faceva Gola alla moda tutto questo, perché accostandosi all'arte lei traeva beneficio di tutto questo bagaglio simbolico. Allora, adesso vi propongo altri tre esempi storici, stavolta, che però sono molto utili per comprendere come questa intuizione venne sviluppata nel corso del tempo. a volte in maniera virtuosa, altre in maniera più strumentale, ma in ogni caso innovativa per l'epoca. La stilista Rosa Genoni, un personaggio piuttosto dimenticato dalla storia purtroppo, nei primi del Novecento voleva fondare una moda italiana in aperta opposizione alla dominante couture francese, tanto che viene ricordata come l'antesignana del Made in Italy. Ma come poteva spostare l'attenzione sulla manifattura nostrana? Richiamando nei suoi abiti l'espressione del genio italiano per eccellenza, ovvero l'arte rinascimentale, ovviamente. Cioè quella che nel Cinquecento aveva reso l'Italia il centro dell'universo conosciuto. Questo abito, infatti, si ispira alla Primavera di Botticelli, il primo. Con la seconda immagine, invece, ci troviamo di fronte a una vera pietra miliare della storia del rapporto fra arte e moda. La collaborazione tra la stilista Elsa Schiaparelli e l'artista Salvador Dalì. La vicinanza di entrambi al movimento d'avanguardia del surrealismo ha fatto sì che creassero delle vere e proprie opere d'arte indossabili. Questo abito aragosta rappresenta la fusione perfetta dei due loro rispettivi mondi di provenienza, perché in esso c'è innovazione, sperimentazione, c'è gioco, provocazione, messaggio sociale. Qui sì che c'è l'empowerment femminile, perché guardate a che altezza del corpo si colloca l'aragosta. E infine, arriviamo al 1965. Yves Saint Laurent è in preda ad una crisi creativa, perché a quasi un mese di distanza dal lancio della sua nuova collezione si ritrova senza idee. E quindi apre casualmente un libro su Piet Mondrian regalatogli dalla madre e, sbam, illuminazione, decide di trasformare l'estetica dell'artista in creazioni sartoriali. Cioè, né più né meno, lui riporta i quadri su tessuti, inaugurando, peraltro, una vera e propria tendenza da parte della moda a citare la storia dell'arte in chiave pop. Questi esempi sono molto utili, come vi dicevo, per capire come l'intuizione è stata sviluppata. Ma ci dicono anche un'altra cosa. Ci dicono che l'arte, per essere utilizzata così, ha bisogno di un approccio molto superficiale, retinico. Questi abiti sono stati depredati. Questo è un problema per tutti noi, come dicono il titolo, ci riguarda e ci riguarda a tutti, anche coloro a cui la moda e l'arte non interessano, perché l'incontro di questi due mondi, per funzionare, deve attingere al patrimonio culturale, tra cui l'arte, ovviamente. E il patrimonio culturale, come dice il termine, è nostro, è di tutti, è un'eredità che ci è stata lasciata e che a nostra volta lasciamo, perché all'interno di essa si annidano le modalità attraverso cui le persone, prima di noi, si sono organizzate per reagire ai cambiamenti. E quindi, nel momento in cui il sistema dell'arte non salvaguarda questi dati e il sistema della moda li strumentalizza, è un problema per noi, perché stiamo perdendo informazioni importanti sul nostro passato, ma per il nostro presente e per il futuro. Non è vero che l'arte è inutile, come dicevo prima. Non è vero che il patrimonio culturale è inutile. Lo dicono anche molti studi. La fruizione culturale ha dei benefici reali sulla salute umana, ma non è tutto. Ha anche dei benefici collettivi. Questo principio è stato ripreso da un accordo europeo molto importante, entrato in vigore a partire dal 2011, noto come Convenzione di Faro, secondo cui il patrimonio culturale è uno strumento di democrazia, una risorsa civica fondamentale che ci permette, attraverso il dialogo, l'empatia e la coesione, di affrontare meglio le sfide della contemporaneità, con effetti sul medio e lungo termine sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Ogni volta che lasciamo che qualcuno o qualcosa sfrutti il patrimonio culturale come un pozzo petrolifero, una metafora purtroppo ancora abusata dalla politica italiana, noi quindi non soltanto stiamo perdendo un'opportunità di crescita, ma stiamo anche depredando la nostra identità. Ad esempio, io ballo la pizzica salentina a livello amatoriale, ci tengo così tanto che l'ho anche scritto sulla bio di questo talk. E la pizzica che si balla oggi non è la pizzica che si ballava 60 anni fa nelle campagne, è evidente, perché nel frattempo la società è cambiata e quindi anche la danza che balliamo oggi rispecchia rapporti umani e dinamiche sociali diverse, ma è una danza che non dimentica da dove viene, non dimentica le proprie origini. Forse la moda dovrebbe fare come la pizzica, dovrebbe aggiungere significati anziché toglierne e l'arte dovrebbe raccontarsi anziché prestarsi. La stratificazione è ciò che tiene in vita la tradizione. Ma quindi, visto che la cosa ci riguarda, cosa possiamo fare noi per evitare che questo saccheggio continui, per contribuire ad un'inversione di rotta? Chiederci perché. Ogni volta che siamo davanti ad un'opera d'arte, ad una mostra, ad un museo, non accontentiamoci di quello che l'occhio capta, ma andiamo oltre. Chiediamoci perché quell'opera è stata fatta e perché è stata fatta proprio in quel modo. Perché la risposta a queste domande ci offre informazioni importanti per la nostra quotidianità. stringendo un legame così stretto con il patrimonio culturale, tutti noi saremo molto meno clementi nel vederne storpiati e privatizzati i significati. E il sistema dell'arte e della moda, se vogliono sopravvivere nel mercato, saranno obbligati ad adeguarsi. Quindi svestiamo i panni del consumatore ideale e indossiamo quelli dell'individuo consapevole. Perché questo è il regalo più grande che possiamo fare a noi stessi. Grazie. Grazie a tutti.